Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, sono Gianguin di 308 e perchè abbiamo in mano un blocco di terra non è tanto bello vabbè comunque oggi abbiamo dovuto costruire un tunnel che ci collega a quel crepaccio che abbiamo trovato l'altra volta e che troviamo spesso solo che l'ho cercato per 10 minuti e non l'ho trovato quindi ho deciso che andremo in miniera normalmente però questa volta lo facciamo bene, ben equipaggiati, cioè abbiamo fame e tutte queste cose però adesso andiamo sotto e vediamo un po' se troviamo qualcosa allora, dobbiamo equipaggiarci bene, lo so che non sono equipaggiato bene allora stavo dicendo ragazzi, non sono in Optifine perchè siamo nello snapshot e quindi vabbè non sono in Optifine appena esce la versione ufficiale metto la Optifine così non dobbiamo chizzare le torce dobbiamo arrivare a livello 13 perchè sono tutti che lì dove ci sono i diamanti e comunque ci sono più minerali siamo già... io non le so bene le coordinate ah ok, quello in mezzo all'altezza, bene, siamo a livello 45 eh, mamma mia mettiamo una torcina gravel ragazzi significherà qualcosa? questa gravel? no, ci corrolla tutto in testa ragazzi, dobbiamo scendere da un'altra parte comunque siamo a livello 25 qui c'è della terra come mai c'è della terra? come mai c'è della terra ragazzi? che strano eh? allora, siamo a livello 19 buono 18, 17, 16 innanzitutto c'è del ferro che è sempre buono, una bella vena di ferro ok, va bene io sapevo una roba che puoi piazzare, voglio vedere se si può fare davvero ok, sì però una torcia direi che non ne vale la pena allora, siamo a livello ehm 14 andiamo ancora giù un attimo e poi siamo arrivati 13 12 ok ragazzi, questo è a livello 12 direi che andiamo su e ci equipaggiamo bene allora, abbiamo rotto il piccone quindi dobbiamo farne un altro raga ehm dov'è che si esce? di qua è notte, io direi che andiamo a dormire proprio un attimo e domani mattina ehm cioè tra poco ci facciamo un nuovo piccone questo qui ehm beh, lo usiamo finchè c'è intanto mettiamo in fornace questo andiamo a vedere se giù c'abbiamo già qualcosa dov'è che è minerali ehm ehm sì, ci abbiamo due di ferro ok, facciamo un botto di torce quindi ci servirà un botto di legna raga andiamo di sopra e facciamo scorta di legna dobbiamo farci una barca cioè io le faccio sempre... c'era la barca? no, l'ho persa vabbè ci prendiamo un botto di legna per farci le torce ce ne serve almeno uno stack di torce cioè almeno è tanto eh uno stack di torce però se ce la facciamo uno stack di torce non sarebbe un... non sarebbe male diciamo che è un obiettivo da puntare secondo me non ce la facciamo ne prendiamo meno però vabbè oh, chi è che mi spara? no eh niente tanto ci abbiamo la keep inventory non vi preoccupate non so perché avevo mezzo cuore però e perché c'è ancora... no ma è pieno di mob eh, raga dobbiamo ammazzare i mob forza all'attacco raccogliamo un attimo la legna e andiamo all'attacco dov'è? creeper no e niente vabbè non l'avevo visto anche perché ci ho aperti... scusate se ci ho aperti questi grafici eh ma mi servono per... tanto adesso non ci servono più allora ci prendiamo altra legna ok qui ce ne prendiamo ancora poi ce ne prendiamo qui ancora un po' di legna direi che dopo questo albero ne prendiamo ancora uno e poi basta direi che dopo questo albero ne prendiamo ancora uno e poi basta ok allora ragazzi adesso che abbiamo quasi... ok finito adesso ci prendiamo... oh bello le ossa possono servire la bonnia ah buono ragazzi abbiamo le ossa l'ho realizzato solo ora cioè l'ho detto un po' così alla leggera ma possiamo fare la bonnia per far crescere di sopra intanto è cresciuto di sopra andiamo a vedere no però adesso ci facciamo la bonnia come si dice non ne ho idea dov'è che è? ossa bonnia alforina alforina d'ossa ne prendiamo sei e cosa ha buttato? una fornace e facciamo crescere qua di sopra è già pronto? si ci serve la zappa giusto? o bastano anche le mani? si andavano bene anche le mani ci ha dato due semini adesso dobbiamo andare per forza a prendere la zappa dove ce l'abbiamo la zappa giù? attrezzi eeeh zappa ok e la usiamo tutta la bonnia scusate se mi perdo un attimo ma questo video si chiamerà tipo avanziamo con con la vanilla o passi avanti con la vanilla non lo so però uno due tre e quattro la possiamo già rompere? si ok eeeh è caduto un grano ok e ripiantiamo adesso basta perchè non abbiamo più non abbiamo più semi allora poi mettiamo anche no mi sembrava un enderman poi mettiamo anche l'acqua dopo adesso mettiamo giù la zappa che non penso ci servirà sotto ci riempie soltanto slot mettiamo giù un po' di cobblestone la lana eeeh il grano no ci può servire la craft integral tutte queste cose qui non ci servono questo questo questi blocchi potrebbero servire ok andiamo a fare un voto di blocchi di legna con questi qui no ragazzi ci sono un botto almeno uno stack si di più di uno stack due stack dai che arriviamo a due stack si ok ci facciamo adesso così dai ancora un pochino 30 direi che possono bastare 32 così ci abbiamo uno stack tipo no ok poi ci eh no con tutte e poi ci mettiamo tutto il carbone che ci abbiamo cioè quello che ci serve nooo ma uscendo ha fatto un danno perchè adesso dobbiamo ripiazzare tutti gli stick eh non sono quelle craft integral magiche moddate che ok ok adesso andiamo a mettere il carbone e vediamo perchè ah no ma ragazzi ma no ma sono stupido ma basta proprio così vediamo quante torce ci facciamo uno stack due stack e basta direi cioè direi che così basta adesso ci mettiamo questa qui nella seconda mano quest'altra la teniamo qua ok direi che possiamo ah no ci serve il piccone raga che stupido dobbiamo farci un piccone eh ce li abbiamo ancora gli stick no li abbiamo usati tutti ok uniamo qua qua facciamo un piccone in ferro questo qui lo teniamo per dopo ok e andiamo a in miniera allora intanto usiamo ancora questo finiamo questo ok io direi che andiamo giù in miniera e ci prendiamo tutto quello che ci serve vediamo di arrivare a livello 13 ok qui siamo a livello 13 proprio e direi di scavare dritti finché non troviamo qualcosa però usiamo quell'altro di piccone bene bene andiamo a vedere allora redstone bene di solito vicino alla redstone ci sono i diamanti dicono ok quindi no ho rotto il piccone vabbè lo sapevamo 24 di redstone raga è una cosa buona dai ok e sopra c'è altra redstone io direi di scavare un po' qui intorno perché come tutti sanno dove c'è la redstone intorno potrebbero esserci dei diamanti quindi io direi di rompere un po' qua e di procedere in questa zona no allora qui c'è del cos'è cos'è carbone nulla solo carbone raga mai scavarsi sotto i piedi mi raccomando eh ok ok ragazzi abbiamo visto che cercare una miniera io sono più bravo a fare così perché non si sa ok altro carbone ma di carbone ne abbiamo non ci mette così tanto a romperlo boh ma di carbone ne abbiamo un sacco raga quindi direi che non ce n'è non ci serve il nostro obiettivo è trovare i diamanti oggi raga non so se ce la facciamo però il nostro obiettivo è trovare i diamanti vediamo se li troviamo secondo me no però vabbè speriamo nemmeno di trovare un po' di oro redstone e tutte queste cose allora andiamo avanti a scavare su questo livello però ok rimaniamo qua ok ferro bene bene ferro molto buono poi andando avanti io rimarrei comunque in questa zona perché abbiamo visto che c'era la redstone e dove c'è la redstone ci sono i diamanti però non è una cosa accertata eh io ho scavato un po' intorno e non abbiamo trovato nulla quindi boh abbiamo avuto fortuna prima adesso non tanta metti che adesso troviamo il qui siamo a livello 12 giusto? si siamo a livello 12 livello diamanti eccola qua stava tutto più sotto raga adesso intorno alla redstone cerchiamo se ci sono i diamanti ragazzi ragazzi cosa ci facciamo con tutta sta redstone? cioè non serve a nulla è una roba di scarto la redstone boh possiamo fare cosa si può fare di buono con la redstone ragazzi? non lo so vabbè vediamo se troviamo anche nuovi minerali bisognerebbe andare un po' avanti no? perchè dove non ho ancora esplorato perchè se no i chunk sono gli stessi e quindi non c'è vabbè tutte quelle cose lì voi ne sapete più di me allora qui intorno alla redstone non mi pare di vedere diamanti niente diamanti eh ragazzi io vi dico che sicuramente oggi non li troveremo però boh ok intanto c'è del ferro buono metti che magari dietro al ferro ci sono i diamanti? no niente dai un diamantino niente diamanti ragazzi ok andiamo ci abbiamo 64 di di redstone ragazzi siamo dei pro cioè la redstone è una roba di scarto però per me è un record trovare la redstone lo so faccio schifo su minecraft però vabbè in questa maniera sto dimostrando che posso migliorare no ho sbagliato a mettere lì la torcia la mettiamo qua allora no come raga ho rotto il piccone dobbiamo tornare in superficie eh ma perché i picconi di ferro si consumano in fretta eh quando si scava così tanto e vabbè niente torniamo in superficie è strana questa cosa eh no ma aspettate ma perché me ne torno su raga ma che stupido ho tutto lì ho la fornace la legna ce l'ho sì ragazzi che stupido potevo farmene uno nuovo lì giù vabbè ce lo facciamo adesso allora stiamo registrando da 16 minuti voi lo vedrete molto più corto il video adesso vediamo un po' ma dove sto andando qui giù ok va bene facciamoci qua una mettiamo giù la fornace le mettiamo anche la crafting in fornace mettiamo questo e questo bene poi ah vabbè ma ce l'ho già il ferro poi mettiamo qua nuovo piccone ne facciamo un altro direi perché abbiamo visto che si consumano in fretta nuovo piccone ok ho buttato giù la cobblestone io direi che adesso andiamo avanti mentre cuoce il ferro allora di qua cosa c'è nulla allora spostiamoci di corsia se qui non è fortunato io ve l'ho già detto non mi aspetto di trovare oggi i diamanti perché sarebbe un record però vediamo un pochino di trovare qualcosa e intanto di prepararci la maniera no? perché intanto abbiamo raggiunto il livello 13 che è già una cosa buona qui non stiamo trovando nulla mmm ma come vai non troviamo nulla mmm aha ehm redstone vediamo se troviamo i diamanti dai diamanti su diamanti dai diamanti forza voglio trovare dei diamanti oro grandi ragazzi oro e eccoci qua con anche l'oro altro oro raga è un posto fortunato qua stiamo trovando un botto di carbone aspettate che magari non vedete ho trovato due di oro allora eh va bene va bene altra redstone no raga qui mi sento che troviamo i diamanti eh me lo sento dai che troviamo i diamantini dai che troviamo i diamantini dai 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 diamantini dai niente diamantino vediamo sotto i piedi dai un diamantino per favore piccolino dai anche uno solo e invece ragazzi niente vabbè ragazzi cosa vi devo dire è andata così andiamo lì ah giusto che lì c'è altro redstone intanto di redstone cioè ne abbiamo un sacco non so come usarlo no mi piace questa cosa qui che abbiamo l'oro buono 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 davvero buono raga andiamo giù perché mi sembra che sia un po' più giù a sto punto visto quelle cose che troviamo più in basso ok allora intanto abbiamo trovato l'oro che è una cosa buona vediamo un attimo di vedere se arriviamo alla bedrock così tanto per dire di aver raggiunto la bedrock vedete che troviamo i diamanti dove c'è la bedrock eccola qua la bedrock no non c'è nulla comunque raga anche alla bedrock non c'è oh no ok non possiamo incastrarci eh stiamo per rompere il piccone no stiamo scavando un sacco raga però vabbè meglio così e stiamo prendendo un botto di cobblestone vediamo all'inventare no mamma mia è pieno di cobblestone guardate c'è no raga guardate quanta cobblestone allora metto le torce è un po' prima che io che mi diventi bui anche a me perché magari voi non vedete bene diamantini torniamo su direi perché abbiamo visto che qui in basso niente diamantini magari che ne so qua no no qua no non mi piace troviamo qua pronto il piccone andiamo all'altro piccone allora ragazzi con l'oro cosa ci facciamo non ho idea io non sono ben esperto di minerali con l'oro direi che non ci facciamo l'armatura cosa c'è per cosa è buono l'oro non ne ho idea allora io so che tipo l'oro è più veloce però non ne vale la pena c'è ehm boh non lo so raga non ne ho idea ok ragazzi direi che oggi i diamanti non vogliono farsi trovare scaviamo ancora dieci blocchi uno due cioè uno due tre quattro cinque sei sette ferro vediamo un attimo eccoci qua redstone eh allora niente ferro e basta diamantini dai qualche diamantino vabbè ragazzi direi che comunque è e abbiamo oh grandi diamanti grandissimi ragazzi abbiamo trovato i diamanti ma che pro mamma mia ragazzi vediamo se ce ne sono altri qui intorno a sto punto grandissimi ragazzi l'avete visto grandi grandi raga gg mamma mia adesso gli mandiamo dopo gli mandiamo un vocale avviato gnocchi e così lo facciamo un po' rosicare raga metto la torcia ragazzi i diamanti ragazzi adesso ci facciamo un piccone anzi no la prossima volta lo facciamo così direi che possiamo chiudere torniamo in superficie e chiudiamo ok mi sa che no è giorno si è giorno però sta tramontando il sole va bene ragazzi va bene ragazzi per questo video è tutto io vi ricordo di iscrivervi al canale anzi aspettate un attimo facciamo guardate che belli i diamanti 5 diamanti ragazzi 5 diamanti in 24 minuti 5 diamanti ragazzi buono cosa ho fatto ho piaciuto la torcia vabbè buono buono allora ragazzi con questi diamanti la prossima volta ci facciamo la spada e il piccone ovviamente no vi faccio vedere non lo crafto perché lo crafto la prossima volta il piccone ed è qui e poi però non lo craftiamo così vi faccio vedere il prossimo video in cui lo crafto eh che tattiche poi si ci avanzano anche ci facciamo anche una spada grandi ragazzi molto bene ragazzi e la keep inventory l'abbiamo usata pochissimo va bene ragazzi abbiamo 20 di ferro direi che ci facciamo l'armatura full iron per la prossima volta mi troverete con l'armatura full iron oggi avrei voluto andare a trovare quel bunker la ma a quanto pare io sono più bravo scavando alla cieca oggi abbiamo trovato un botto di redstone esattamente abbiamo trovato un botto probabilmente abbiamo trovato 64 2 stack e 4 poi abbiamo un botto di cobblestone 2 di oro e 5 diamanti ragazzi 5 diamanti senza citare mamma mia abbiamo solo la keep inventory che abbiamo usato comunque poco ragazzi mamma mia che bravi intanto ci facciamo anche le cose le 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 intanto i pezzi di armatura così siamo più bravi allora vabbè intanto ragazzi andiamo di sopra a vedere come stanno qua bene stanno crescendo c'è un enderman vediamo di non rovinare tutto con un enderman ok buono raga raga sono stra contento intanto ci facciamo l'elmetto no ci serve ancora uno intanto ci facciamo e vabbè che cosa ho fatto l'elmetto ok ok poi adesso la la corazza e tutte le altre cose ma ragazzi io direi che per questo video ci possiamo anche fermare adesso mi crafto tutta l'armatura off camera perché sennò registro un botto per questo video è tutto abbiamo trovato i diamanti ragazzi i diamanti mamma mia i diamanti vabbè per questo video è tutto vi ricordatevi al canale mettete like e attivare la campanellina abbiamo scoperto che il metodo migliore è scavare e non trovare le miniere per me almeno niente direi che possiamo chiudere per questo video è tutto io vi saluto aspettate che mando un vocale a Beato Gnocchi magari nel prossimo video vedete la risposta al vocale oh Beato Gnocchi sai cosa ho trovato in video in miniera ho trovato due stack di redstone che vabbè tu dici la redstone non è bella due di oro un botto di ferro vabbè il carbone ne ha un'infinità e cinque diamanti Beato Gnocchi cinque diamanti se mi rispondi in tempo faccio sentire una risposta nel prossimo video tu che dicevi che non avrei mai trovato i diamanti vabbè ciao Beato Gnocchi ok ragazzi abbiamo mandato il vocale allora ragazzi direi che possiamo chiudere per questo video è tutto vi consiglio del canale mettere la campanellina questo video è finito abbiamo trovato i diamanti sono contentissimo adesso vi faccio l'armatura ciao ciao